Gerardo Costabile, Senior Cyber Security Advisor, qui al workshop Costruire la sicurezza nei sistemi intelligenti di trasporto a Transportec, ha parlato di IoT e Cyber Security, minacce, rischi e protezione. Sì, abbiamo cercato di esplorare un pochettino il mondo della Cyber Security nell'Internet of Things, dando anche un po' le statistiche delle ultime vulnerabilità degli ultimi anni, è una materia comunque molto nuova e che non deve essere sottovalutata perché tutti questi oggetti in rete comunque toccano un po' tutti gli ambiti professionali, non solo l'automotive con le scatole nere all'interno delle autovetture ma anche nell'ambito sanitario, in quello retail, in quello anche militare e quindi la sicurezza di questi end point, di questi oggetti che hanno del software a bordo e che quindi necessitano comunque di una sicurezza diciamo sia locale che di rete e in un sistema un po' più generale non devono essere sottovalutati, devono essere affrontate già dal design della infrastruttura in tutti i layer. Infatti solitamente questa tipologia di attacchi, per esempio nell'ottobre del 2016 c'è stato un attacco molto importante che ha spento per alcune ore internet, tra cui Twitter, Paypal e altri grandi siti, proprio sfruttando l'intre delle cose, c'erano stati infettati con un virus chiamato Mirai, una serie di oggetti, di domotica e di telecamere e poi questi oggetti sono stati usati come una serie di zombie per fare degli attacchi mirati su queste infrastrutture internet. Ecco questo ha un po' tra i detti lavori allarmato perché gli oggetti sono comunque oltre 6 billion nel 2016 e quindi aumenteranno sempre di più e questa forza di attacchi può creare degli problemi abbastanza importanti nella sicurezza delle infrastrutture critiche dei vari paesi e tra l'altro possono essere utilizzati anche per fare del cyber war o comunque delle azioni molto malevole. Non dobbiamo anche sottovalutare come l'impatto della cyber security su questi oggetti può avere un'influenza anche sulla safety, quindi sulla sicurezza delle persone perché gli attacchi per esempio che sono avvenuti su alcune automobili di pregio, alle centraline elettroniche, poi ha portato o può portare anche alla problematiche sull'incolumità delle persone perché l'attaccante da remoto può utilizzare l'auto, può far non frenare oppure far girare l'autovettura e quindi può creare anche delle incidenti all'interno di città o sull'autostrada. Tutto questo quindi deve essere progettato con una sicurezza by design, deve essere approcciato il problema end to end e ricordarsi comunque di fare dei controlli e di fare dei test specialmente per rendere la sicurezza diciamo un qualcosa delle prime fasi progettuali e non ricordarsene soltanto dopo perché oltre a essere molto costoso può essere anche un problema gestire poi gli incidenti dopo che sono avvenuti rispetto all'attività di prevenzione.